Decenni, secoli e millenni Nel video precedente abbiamo visto che per stabilire una scala di misurazione degli anni dobbiamo innanzitutto scegliere una data di partenza convenzionale e che lo standard attualmente più diffuso è quello di fissare questa data alla nascita di Cristo suddividendo gli anni in quelli avanti Cristo e in quelli dopo Cristo. Quando iniziamo a esaminare periodi storici finiamo per dover trattare insieme molti anni e diventa perciò comodo usare dei multipli quelli che incontreremo nello studio della storia sono i lustri, composti di 5 anni i decenni, composti di 10 anni i secoli, composti di 100 anni i millenni, composti di 1000 anni Consideriamo ora alcuni usi di questi termini sui libri di storia che dobbiamo conoscere per poter interpretare correttamente un testo Andiamo a segnare sulla linea del tempo i primi secoli e vediamo come dobbiamo leggere le date Consideriamo i primi secoli dopo Cristo e prendiamo come esempi due eventi noti Nel 79 dopo Cristo l'eruzione del Vesuvio che distrusse Pompei e nel 138 dopo Cristo la morte dell'imperatore Adriano Se invece di indicare la data esatta vogliamo riportare genericamente il secolo in cui questi eventi sono avvenuti dovremo partire calcolando il primo secolo dall'anno 1 all'anno 100 il secondo secolo dall'anno 101 all'anno 200 e così via Perciò dovremo dire che l'eruzione del Vesuvio è avvenuta nel primo secolo dopo Cristo e che l'imperatore Adriano è morto nel secondo secolo dopo Cristo e scriveremo i secoli usando i numeri romani Per gli anni che precedono la nascita di Cristo si procede allo stesso modo ma andando a ritroso La morte di Cesare in Senato è avvenuta nel 44 avanti Cristo e quindi nel primo secolo avanti Cristo mentre Cartagine venne distrutta nel 146 avanti Cristo cioè nel secondo secolo avanti Cristo Un discorso analogo va fatto per i millenni perciò ora nel 2020 ci troviamo nel terzo millennio e non nel secondo Spesso gli studenti fanno confusione ad abbinare correttamente le date ai secoli e se leggono che l'impero romano d'Occidente è finito nel V secolo dopo Cristo sono tentati di collocare l'evento tra il 501 e il 600 mentre esso è avvenuto nel 476 Per evitare di sbagliarci possiamo adottare alcune strategie Se stiamo scrivendo un testo in cui dobbiamo riportare il secolo di un evento e siamo dubbiosi possiamo calcolarlo su un foglio di brutta disegnando una timeline molto semplice Anche quando stiamo studiando un libro di storia e ci imbattiamo nell'indicazione di un secolo possiamo calcolare a parte in quale intervallo di anni si pone e annotarlo poi a matita sopra il testo Ripetendo questa semplice operazione molto volte in breve tempo ci verrà naturale pensare al secolo corretto e non avremo più bisogno di fare calcoli Un'altra convenzione a cui dobbiamo stare attenti riguarda i secoli dal XIII in avanti Infatti questo secolo viene chiamato 200 e non 1200 il XIV secolo 300 e così via A tale proposito dobbiamo evitare i due errori Il primo è di interpretare l'indicazione del secolo come una data esatta Se leggiamo che la peste nera colpì Firenze nel 300 non dobbiamo intendere che l'epidemia avvenne nell'anno 1300 ma che avvenne nel XIV secolo cioè in una data compresa tra il 1301 e il 1400 Essa infatti colpì Firenze nel 1348 Mentre se leggiamo che Bonifacio VIII indisse il giubileo nel 1300 dobbiamo intendere che il giubileo si svolse esattamente nell'anno 1300 Il secondo errore è da evitare di sbagliare millennio L'affermazione Per quanto riguarda i secoli prestiamo anche attenzione a quello che stiamo dicendo o scrivendo esattamente Il muro di Berlino è caduto nel secolo scorso significa che è caduto nel secolo precedente al nostro cioè nel 900 e non che è caduto cent'anni fa Infatti esso è caduto nel 1989 cioè 31 anni fa Mentre se leggiamo che cent'anni fa in Belgio si sono tenute le Olimpiadi dovremo correttamente comprendere che le Olimpiadi in Belgio si sono svolte nel 1920 Per quanto riguarda i decenni essi vengono indicati in questo modo anni 20, anni 30 e così via L'uso di questa espressione ci è parecchio familiare visto che ad esempio quando cerchiamo su Youtube la compilation delle migliori canzoni degli anni 90 non ci aspettiamo di trovare solo canzoni dell'anno 1990 ma di tutti gli anni tra il 1990 e il 1999